Cominciamo con il parlare di calcio, in studio c'è Massimo Profeta che saluto, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Allora il punto sul calciomercato Biancazzurro del Pescara, ti faccio subito una domanda diretta su Foresta, questo calciatore. Guarda, se ne sta parlando da diversi giorni, un centrocampista che è graditissimo direi, molto gradito a Silvio Baldini, a proposito, Silvio Baldini verrà presentato domani alle 18 all'EC Hotel di Città Sant'Angelo. Ebbene, insomma, Giovanni Foresta è un 95, 29 anni ancora da compiere, ha militato nella Carrarese, quindi è stato la dipendenza di Silvio Baldini per 4 anni, lo conosce benissimo, il tecnico toscano, ha fatto benissimo nelle ultime 3-4 stagioni soltanto 30 presenze in varie società come Gelbison, a Re Canatese e Alessandra, l'ultima stagione appunto che abbiamo consegnato agli archivi. In questo momento c'è solo un contatto con il giocatore e con il suo procuratore, vedremo. È uno dei tanti nomi in ballo, ce ne sono tanti altri, per esempio l'accordo, c'è un accordo che è stato già raggiunto con due calciatori, sempre il gradimento dell'allenatore perché sono stati alle dipendenze di Baldini. Ci riferiamo ad Andrea Accardi che è una classe 1995, grande esperienza, lo scorso anno ha militato nella Virtus Francavilla, è stato giocatore del Palermo con Baldini allenatore quando due anni fa, stagione 2021-2022, il Palermo riuscì a centrare la promozione in Serie B. C'è quindi un accordo, è un giocatore duttile perché può fungere sia da terzino d'aesto che da centrale di difesa. L'altro giocatore con cui è stato trovato l'accordo, se ne parlo ormai da circa 7-8 giorni, Accursio Bentivegni, altro giocatore graditissimo a Silvio Baldini, lo ha avuto le sue dipendenze nella Carravese per ben tre anni, dal 2017 al 2020, è un esterno d'attacco che può anche giocare alle spalle della prima punta. Diciamo che gli accordi ci sono Paolo, però bisogna ratificare questa operazione. Ecco, a proposito di vedremo, proprio poco fa c'è stato un titolo sul nostro sito, Carlson, il giocatore islandese che piace, però ancora non è chiuso. Sì, allora, Carlson, diciamo subito, l'islandese che lo scorso anno si è messo in grande evidenza nella Vispesa. Noi abbiamo anticipato questo interessamento. Assolutamente, abbiamo proprio anticipato la trattativa perché è in piedi da più di dieci giorni. Si è mosso con largo anticipo dell'Icari, ha parlato con il pescarese Pippo Antonelli, Filippo Antonelli, ex calciatore del Pescara e direttore sportivo del Venezia, perché questo ragazzo è di proprietà del Venezia, è un classe 97, 27 anni, lo scorso anno benissimo alla Vispesaro con dieci gol. Il problema qual è? Il giocatore non ha ancora deciso. Ha preso tempo e quindi vedremo nei prossimi giorni, però è pronto un accordo triennale, un contratto triennale. Basta con le novità sul Pescara, possiamo dire qualcosa sul Pinetto? No, volevo dirti ancora, il Pinetto è attivo, no? Il Pinetto è attivo, ci arriviamo subito. Per quanto riguarda ancora il Pescara c'è da dire che di Pasquale ormai l'operazione in dirittura arrivo con il Crotone, il Crotone lo ufficializzerà lunedì, però è già stato tutto fatto, insomma, accordo biennale per il classe 96. In uscita, perché sono delle priorità in questo calciomercato del Pescara, ci sono delle uscite prioritarie. Manu, che è vicinissimo alla Clodiense Chioggia, squadra neopromossa in Serie C. Colai e Vergani, Colai è seguito dall'Altamura, in realtà non è molto convinto di andare all'Altamura, che è una neopromossa in Serie C. Vergani ha rifiutato Foggia e attenzione perché a mio avviso saluteranno Pizzari, Pizzari perché poi il Pescara sta cercando un incastro con il Venezia. Lo ha proposto al club lagunare, che però ha messo nel mirino Filip Stankovic, classe 2002, di proprietà dell'Inter, che lo scorso anno si è messo in grande evidenza nella Sampdoria, titolare in Serie B con 37 presenze. Potrebbe anche andare a Venezia, Pizzari, però diciamo che l'obiettivo prioritario del Venezia è un altro giocatore, appunto Stankovic. E poi, a mio avviso, andranno via sicuramente Merola, Squizzato e Tugnov. Quali invece le trattative, Massimo, del Pineto? Il Pineto sta per ratificare un'altra operazione importante per l'attacco, perché in attacco si è mosso benissimo fino a questo momento Marcello Di Giuseppe, perché intanto ha preso del sole già da diversi giorni, da circa una settimana, e lo conosciamo benissimo perché è cresciuto nel Pescara, Mancino parte da destra nel 433 che sarà disegnato dal neotecnico Mirko Cudini. Fabrizzi, altra punta molto interessante, ha fatto bene a Latina nelle ultime due stagioni, 17 gol, molti lo ricordano a Chieti, 16 reti in Serie D nella stagione del 2020-2021. E sta per mettere a segno un altro colpo importante, Bruzzaniti, che con l'esterno attacco, piede destro, parte da sinistra, classe 2000, di proprietà del Crotone. Si può fare in prestito con diritto di riscatto e magari anche un obbligo di riscatto, perché il ragazzo, classe 2000, ripetiamo, è legato al Crotone da altri due anni di contratto. Perfetto, grazie, grazie a Massimo Profeta. E poi Giulio Dori, scusami, Giulio Dori per il Pineto, Pineto che sta facendo qualcosa anche a centro campo, Giulio Dori a centro campo è in difesa, Giulio Dori è un esterno, basso, che può giocare anche come quinto, ha fatto benissimo all'Aquila, classe 2004, prima stagione, prima esperienza in Serie D, con tante presenze da titolare nella stagione che ci siamo lasciati agli archivi e di proprietà del delfino Flaccoporto e quindi potrebbe essere preso dal Pineto senza problemi, anzi l'operazione addirittura è arrivata.